Ciao a tutti ragazzi e bentornati! Oggi è la giornata internazionale della lingua madre istituita dall'UNESCO per promuovere le diversità linguistiche e le madrelingue e quindi oggi per voi torna la mia lezione di dialetto veneto che tanto aspettavate. Ho selezionato per voi dieci importantissime e imprescindibili espressioni venete assolutamente da sapere per quando verrete a visitare la nostra splendida regione. La prima espressione è te po' mai n'arte significa figurati e può voler dire sia sì sia no in base al contesto. Per esempio getto magna tutte e fritto è te po' mai n'arte significa hai mangiato tutte le frittelle figurati certo che le ho mangiate tutte oppure getto vansà un po' con dei vinc te po' mai n'arte hai avanzato un po' di vino figurati no in questo caso. La seconda espressione è guarda che te tendo che letteralmente significa guarda che ti controllo tendere però non significa semplicemente controllare ma è un controllare molto molto pesante e pressante affinché non succeda poi una conseguenza spiacevole. Io lo potrei riassumere con questo gesto. Andiamo avanti poi con la tipica minaccia ai bambini veneti quello che ha veramente traumatizzato la nostra infanzia. Vara che se non te ghe a moi te mando in letto coi calcagni pardadrio. Letteralmente significa guarda che se non la smetti ti mando a letto con i talloni girati all'indietro e questo a un bambino suona veramente come una tortura medievale crudelissima. In realtà poi crescendo si capisce che quando si va a letto i talloni sono per forza all'indietro perché sono sempre nella parte posteriore del piede. Anatomia questa voglio dire. Eppure un bambino resta terrorizzato quando sente questa frase. Passo ora a un'espressione forse tra le più difficili da far capire ai non veneti e cioè bronza coerta. Letteralmente significa braccia coperta. Ma chi è una persona denominata bronza coerta? Il detto riprende l'immagine delle braci ancora accese che sono nascoste sotto la cenere nel caminetto. Quindi una persona bronza coerta è qualcuno che all'apparenza sembra molto tranquillo molto timidino molto sulle sue ma poi in realtà sotto sotto cova quell'ardore pronto a venire fuori non appena si smuove un pochino la superficie. Quindi è detto non con un'accezione prettamente di persona cattiva ma più che altro come di persona magari un po' furbetta o che non ce la racconta giusta proprio fino in fondo. Quindi state attenti alle bronze coerte perché magari ne conoscete parecchie. Passiamo ora alla grammatica e cioè a come si esprime il concetto di fare una determinata cosa in un preciso momento. Si usa una formula progressiva diciamo che è il sitodrio. Letteralmente significa essere dietro ma precisamente è il sto facendo quella cosa. Quindi per esempio sitodrio arrivare cioè stai arrivando guarda sodrio montare in macchina guarda sto salendo in macchina. Quindi esprime proprio la progressività dell'azione così come succede anche per esempio nell'inglese. Quindi si formula sempre con il verbo essere coniugato alle varie persone. Poi drio uguale sempre e poi il verbo. Quindi sondrio studiare, sondrio cousinare, vara smodriondare e mangiare. Quindi sempre con questo fantomatico drio. Quando verrai in Veneto dovrai stare molto attento che non ti dicano questa frase sito inseminio. Inseminio infatti significa rimbambito diciamo così e è un'offesa bella e buona quindi te la puoi anche prendere. Nel momento in cui invece una persona lo dice di se stessa quindi io posso dire guarda scusa so proprio inseminia significa guarda scusami sono proprio rimbambita. Il verbo inseminire invece significa stressare, continuare su un argomento, un qualcosa talmente tanto da rendere inseminio. Per esempio, classica frase, a me ga inseminio de ciacoe. Cioè mi ha talmente rimbambita di chiacchiere che sono diventata io inseminia. Passiamo ora a un detto popolare molto eloquente e cioè ne ha vita che se tre rego e ciavare ciavarsene non farsi ciavare. Non penso serva la traduzione letterale per questo detto però la traduzione diciamo figurata è interessante perché in pratica si dice che nella vita ci sono tre regole godersela, fregarsene e non farsi fregare. Soprattutto qui a Vicenza il verbo ciavare diciamo e viene usato anche con in un altro modo un po' rimaneggiato e cioè quando si dice inciavare. Inciavare significa chiudere a chiave quindi inchiavare sarebbe. Ghetto inciavare a porta cioè hai chiuso a chiave la porta. Questo è frequentissimo e molto spesso quando magari sto parlando in italiano però mi scappa un po' la parola veneta, sì mi ridono dietro. Parliamo adesso di quando una persona si toglie il prurito. In Veneto cavarsi a spissa. Tessitoni ancora cavare a spissa di maniare pesce? Significa non hai ancora finito di mangiare così tanto pesce da essere finalmente soddisfatto, madonna in italiano è lunghissima, però significa praticamente quando una persona è finalmente soddisfatta per aver fatto talmente tanto qualcosa che si è grattata così tanto da essersi tolta la spissa cioè il prurito. L'ultima espressione che vi illustro oggi è questa muso duro e baretta fracà. Significa faccia dura quindi una persona risoluta e baretta fracà quindi berretto schiacciato bene sulla testa tirato bene giù e questo denota veramente una persona che fa vedere poco i propri sentimenti che è poco espansiva piuttosto chiusa insomma un po' un orso ecco quindi attenzione alle persone muso duro e baretta fracà oppure a quando vi dicono insomma e basta andatasi lì muso duro e baretta fracà nel senso sciogliti un attimo. Spero di avervi fatto venire la curiosità di imparare un po' di più della nostra meravigliosa lingua veneta di avervi fatto divertire e se volete ancora qualche episodio prossimamente di impara il veneto contati condividete, likeate, commentate, salvate questo post insomma fasighine straie. Per sapere cosa vuol dire quest'ultima espressione che vi ho buttato lì così en passant però dovete supportare la mia pagina e quindi consigliatela ai vostri amici viaggiatori o ai vostri amici che amano magari il veneto e ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao